Quest'anno Baiva è presente a Kienergy con tre divisioni della stessa società, Solar Distribution per la distribuzione di componenti per il fotovoltaico dei marchi leader di settore, Energy Solution per le soluzioni energetiche per clienti commerciali e industriali e Baiva Progetti per lo sviluppo e la realizzazione di progetti solari ed eolici. Nello specifico la filiale della distribuzione ha presentato tre novità qui a Kienergy. Abbiamo qui alla mia sinistra il sistema di montaggio Novo Tegra per elevazione su un tetto piano, poi qui al centro abbiamo il gancio per sottostrutture in calcestruzzo e la terza soluzione è la nuova soluzione per tetto piano.